Grazie Enrico e buongiorno a tutti. Come sempre un ringraziamento doveroso per la vostra presenza a testimonianza del fatto che ci date spazio e opportunità di visibilità. Oggi con piacere siamo qui a presentare alla Cessena Sportiva, agli appassionati e ai nostri tifosi due nuovi arrivi, anche se come diceva Enrico sono qui da un po' di tempo e sono andati un po' i primi arrivi di fatto. Con piacere e con soddisfazione sono qui a presentare due giocatori di fatto giovani ma che hanno già un buon percorso alle loro spalle in termini di esperienza vista anche la loro giovanità. In particolar modo per Antonio Candela che rispetto ad Andradamoli è un anno più grande, un 2000, ha già avuto esperienze anche di categoria superiore. È un giocatore che la sua squadra di appartenenza, che ne detiene la proprietà, che è il Genoa su di lui in passato ha investito molto. È un profilo di assoluto, assolutamente di primo piano nell'ottica di giovani in questa categoria e sono molto contento di essere riuscito a vincere anche una concorrenza abbastanza agguerrita che si voleva accaparrare le prestazioni di Antonio Candela. Andradamoli, allo stesso modo, è un ragazzo di proprietà dell'Empoli, ha già una stagione alle spalle l'anno scorso nella Lucchese dove ha utilizzato circa 29 partite, se non sbaglio, e quindi l'idea era quella di dotarsi di ragazzi giovani ma che potessero avere già un percorso da professionisti in questa categoria. Antonio è un difensore di fascia destra, si può adattare anche a sinistra. Nel nostro scacchiere lo consideriamo un giocatore importante, così come Antonio e ci auguriamo che loro possano veramente contribuire in maniera importante e significativa nell'ambito della prestatività della nostra formazione. Si sono, devo dire, ben inseriti nel nostro contesto e ho feedback molto positivi da parte dell'allenatore e quindi sono contento. Gli do, diciamo, l'ufficiale benvenuto in questa nostra realtà e mi auguro che veramente loro possano completare o continuare questo percorso di maturazione del loro percorso, della loro carriera, sperando che insieme possiamo comunque scrivere una pagina importante sia per loro che per noi. Non ho particolarmente altre cose da aggiungere se non il fatto di ribadire la mia personale soddisfazione di averli qua con noi. Sì, perdonatemi, vengono con una formula di prestito temporaneo, annuale, quindi sono alla formula diciamo federale questa, perché sono giocatori sulle quali le loro società di proprietà hanno comunque investito e sperano, come noi, che loro possano qui continuare un percorso di crescita che noi ci prefiggiamo di accompagnare. Sì, come hai detto te, ho fatto, diciamo, tutto il percorso delle nazionali fino all'Under 20 e poi di fatto il gradino, lo step da giovanili a prima squadra non è sempre facile, c'è chi è più fortunato e chi meno. Ovvio serve anche tanta bravura quanto fortuna. Il mio percorso è un percorso di maturazione, ho scelto di intraprendere questo percorso anche partendo da, piuttosto una C che una B, per maturare personalmente e mettere minuti in campo il più possibile. Quindi ritengo sia meglio per un giovane andare dove c'è l'opportunità di esprimersi al meglio. Sicuramente rispetto all'anno scorso è uno step più alto, perché a Cesena si sa è una piazza molto importante che merita di stare sicuramente in altri palcoscenici e quindi ora punto principalmente a maturare qui e dare il mio contributo alla squadra per fare il meglio possibile quest'anno. Sicuramente squadra c'è chi ha ovviamente più esperienza di me. Di fatto ho solo... questo è il terzo anno tra i professionisti, quindi non è che mi posso ritenere... Sicuramente è uno step a livello tecnico più alto. Ci sono le categorie apposta, quindi a livello tecnico è un po' più alto della C. Però una piazza come Cesena si avvicina molto ai livelli di alcune B, secondo me. Sì, sicuramente idee di gioco particolari. Sicuramente all'inizio si fa fatica a metterle... ad attuarle come è normale che sia, però una volta che ci entrano in testa diventa tutto più automatico e sicuramente noi che siamo giocatori di fascia possiamo esprimerci al meglio con questo modo di giocare. Sì, spero di fare una grande stagione, dare una mano alla squadra, ripagare la fiducia al direttore mister e che sia appunto un anno in cui ci possiamo divertire, dare il meglio e fare dei grandi risultati. Come hai visto l'inizio? Di stagione, eh? Amichevoli. Particolari, soprattutto per il modo di giocare nuovo, come ha detto Antonio, che come ha detto il mister deve diventare più automatico in modo tale che nel momento in cui non ci pensi ovviamente puoi pensare ad altro in campo e fare meglio. Però è bello, mi piace. Devo metterlo dentro, diciamo. Dobbiamo metterlo dentro. È quasi più semplice farlo all'inizio che dopo, secondo me. Perché da piccolo, almeno io parlo per la mia esperienza... 15 anni? 15 anni, sì. Io parlo per la mia esperienza, da piccolo vivi un po' come se sei un bambino nel paese dei Balocchi, a livello Juventus, hai tutto, non ti manca nulla. E soprattutto a casa non è che perdi chissà quali opportunità, anche perché sei piccolino. Poi magari man mano crescendo vedi i tuoi coetani fare il sabato sera, andare a ballare, andare a mangiare fuori quando vogliono, iniziare a creare dei gruppi magari con... soprattutto al liceo, oppure per rimanere sempre nello stesso posto. Comunque creano diversi giri d'amicizia, ti senti talvolta tagliato fuori. Però io parlo almeno per me, sono stato molto fortunato, ho trovato un gruppo di amici che è sempre stato quello da quando sono piccolino e non mi è pesato granché. Io dovrei fare la missione. Ho iniziato la prima a casa, poi due anni a Torino, uno a Genova e uno a Empoli, e a Cascina, vabbè, a Empoli. Secondo me che parti subito al top, fra virgolette, che quindi magari sei abituato fin troppo bene e quindi quando passa il salto tra piccoli e grandi non difficilmente sei subito in squadre di livello alto come quelle dei cittadini per giovanili, quindi magari pensi che ti manchi qualcosa, trovi magari meno... Può essere una reazione. Secondo me sì. Soprattutto a livello... adesso che anche nel campionato primavera hanno inserito retrocessioni, conta anche un pochino di più il risultato, però soprattutto il passaggio da under 16, under 17 a quando inizio a contare tanto il risultato lo senti molto. Sia a livello mentale sia dalle richieste, perché magari quando sei più piccolo la richiesta è anche quella di esprimere un certo tipo di calcio e un certo tipo di prestazione. Col passare degli anni diventa anche molto più importante il risultato, raggiunto anche attraverso prestazioni di un altro tipo. Il vantaggio secondo me è che abbiamo vissuto una vita quasi più simile alla normalità, perché ad esempio nel periodo del secondo lockdown comunque ne potevamo allenarci non fare la vita normale, però comunque la nostra routine era più simile a quella precedente al Covid. Invece le difficoltà sono state che secondo me l'assenza dei tifosi, perché il gradino da piccoli a grandi, una delle grandi differenze secondo me potrebbe essere anche quella, perché come possono aiutarti ovviamente ti aumentano le pressioni, perché giocare davanti a 10.000 persone non è come giocare davanti a 150. e sono questo secondo me, pro e contro. Invece il negativo avere l'altro esempio? Secondo me avere il pubblico è molto più bello, cioè ti responsabilizza però è più bello. Grazie a tutti. Grazie a tutti.